Oltre 700.000 euro per cambiare la scuola. Il progetto della scuola digitale, finanziato al Comune di Seregno, ha portato un tablet in tutte le classi delle scuole medie statali. Oltre 1.000 studenti, precisamente 1.050, hanno ricevuto un tablet, unico esempio in Italia. A novembre il sindaco Edoardo Mazza e l'assessore all'istruzione, politica educativa e innovazione digitale Ilaria Anna Cerqua, che ha voluto con forza il progetto, hanno consegnato 296 iPad Apple ad altrettanti studenti delle scuole mercalli. Il finanziamento per i tablet è sostenuto dall'assessorato all'istruzione, politica educativa e innovazione digitale, nell'ambito dell'azione numero 4 del progetto La scuola digitale. In due anni scolastici, 2014-2015 e 2015-2016, l'amministrazione Mazza ha messo sul piatto 783.000 euro. Oltre ai tablet per i studenti delle medie, tutte le classi delle scuole statali del primo e secondo ciclo sono state coperte con l'IM, le lavagne intelligenti e monitor touch, cioè 207 classi per 4.714 studenti. E ancora, Wi-Fi, cablaggi, fibre e connettività sono stati portati in tutti gli istituti. Partito con l'anno scolastico 2014-2015, il progetto si sviluppa in 16 diverse azioni, dal cablaggio degli edifici scolastici al Wi-Fi nelle scuole, dalla banda ultralarga all'uso sicuro del web con percorsi di formazione per studenti e docenti per arginare il fenomeno del serbo e bullismo.